Ciao a tutti ragazzi, io sono NoCal12 e in questo video andremo a giocare a Five Nights at Freddy's 1. Questo gioco, per chi non lo conoscesse, consiste nel... Io sono stato invitato a questo lavoro, perché non avevo lavoro, e di controllare dalle telecamere di un ufficio in questa pizzeria, perché si dice che questi animatronici qua che sto guardando si muovono durante la notte. E noi ovviamente non ci crediamo, quindi vediamo se è vero. Comunque adesso c'è una telefonata che vi dirà precisamente quello che ho detto io. Per adesso non è ancora successo nulla, vedete che sono ancora tutti a posto, però si dice che finita la telefonata che dura fino alle 4 di notte, dobbiamo resistere fino alle 6, inizino a succedere cose strane. Quindi aspettiamo e vediamo, manca soltanto un'ora. Oddio ragazzi, non è ancora finita la telefonata, e guardate che già uno degli animatronici, il coniglio, che si chiama Bonnie, si è già mosso in giro. Adesso noi dobbiamo cercarlo, eccolo, è qua nel magazzino. Però per adesso non dobbiamo preoccuparci perché nella notte 1 non dovrebbero esserci problemi, non dovremmo essere attaccati in teoria. E guardate qua neanche il tempo che se n'è andata anche Chica, la specie di gallina, e Freddy mi sta osservando. Perfetto. Chica è qua, e Bonnie si è mosso. Bonnie dov'è? Oddio, ci sta muovendo qualcuno. Oddio. Qua noi possiamo chiudere le porte per difenderci, e con la luce possiamo vedere dietro le porte. Ma Bonnie è stravicino qua. Oddio. Bonnie? Mi hanno detto che non attaccavano la prima notte. Ehi, c'ho paura io. Cosa stai dicendo? Perché stai attaccando? Beh, tanto in teoria se stiamo chiusi qua per adesso non dovrebbe succedere niente, perché vedete in basso a sinistra che c'è scritto Power Left. Quando finisce il Power, che si consuma più velocemente quando tieni chiuso le porte, si spegne tutto e niente, non puoi più fare niente, devi soltanto sperare che non ti attaccano. Comunque, per adesso dovrebbe essere tutto a posto. E ragazzi, abbiamo completato la notte 1, ma adesso c'è la notte 2. Una molto difficile. Cioè, non difficilissimo, però per me che non sono affatto forte su questo gioco, è bella difficile. Allora, vediamo dalle telecamere. Per adesso tutto a posto. Ah, e qua c'è un altro mostro che se non lo guardi per un po' t'attacca e t'ammazza. Si è già mosso il primo che è Bonnie di nuovo, ed è di nuovo nel magazzino. Intanto guardiamo un po' Foxy. E la chiamata ci ha detto che questa notte dovrebbero iniziare a succedere cose strane, anche se noi l'abbiamo già vista nella scorsa notte. Comunque si consuma più energia anche quando guardi le telecamere. Quindi, perfetto. Bonnie si è neanche andato dal magazzino. E adesso dobbiamo trovarlo. Si è mossa anche Chica e lei è in cucina. Però, dov'è Bonnie? Non lo so. Bonnie! Stai fermo? Ah, no, è Chica. Perché, ragazzi, Chica è in cucina a cucinare. Perché Chica è sempre in cucina a cucinare, perché lei è un po' la cuoca del posto. E stiamo spercando un botto di energia perché non trovo più Bonnie e ho paura che mi potrebbe arrivare. Sono le due di notte, per adesso nessuno mi ha ancora attaccato, però... Ah, no, eccolo, Bonnie. Eccolo, eccolo. È a sinistra? No, è a destra. Beh, no, se n'è andato. Bonnie! Non fare scherzi. Dov'è? Non c'ho paura io. Eccolo. Intanto non ci rimane tanto power. Per questo non si è messi tanto bene. E Bonnie si è pure mosso. E stiamo finendo il power. Dobbiamo aprire tutto, altrimenti moriamo. Dov'è Bonnie? Oh, no. Raga, non lo trovo. Dove è andato? C'è Chica qua! Aspetta, dov'è? Aiuto! No, 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 no. Tra pochissimo finiamo il power. Tra pochissimo finiamo il power. Oh, no. Io ho paura. Io ho paura. No, si sta muovendo, si sta muovendo, si sta muovendo. Si sta muovendo. No, un per cento, zero per cento. Oh, cavolo. Finita? Siamo morti? Oddio. Oddio. Finita? Siamo morti? No, Freddy. Freddy, Freddy, Freddy. Senti, Freddy, ne possiamo parlare. Ti giuro, ne possiamo parlare. Cosa è successo? Ah! E niente, ragazzi. Questo video è già finito. È durato pochissimo rispetto al solito. Però questo gioco me lo vorrei giocare di più quando diventano un po' più forte perché come avete visto adesso sono entrato completamente in panico quando avevo gli animatronics vicini e ho sprecato tutto il power. Comunque, da NoCal12, ciao ragazzi! Ciao ragazzi!